Costretti ancora una volta ad emigrare e questa volta anche di diversi chilometri. A Manfredonia adesso mostrano segnali di insofferenza i tifosi, che hanno evidenziato in una nota quello che è il loro disappunto. Il derby col Sansevero dell'attuale capolista del campionato di eccellenza in programma domenica pomeriggio emigrerà a Molfetta per la perdurante indisponibilità dello stadio Miramare. Ad alzare la voce sono i tifosi della gradinata Est. Ci vergogniamo anche a dirlo una partita casalinga che si disputerà a Molfetta con la nostra passione, che è stata calpestata più volte, attaccano i supporters sipontini. Quelli della gradinata Est continuano affermando che qualcuno sta mancando di rispetto ad una città intera e ad una tifoseria sempre presente e calorosa, a cominciare dagli abbonati, che sono costretti ad accollarsi spese per seguire le gare casalinghe. Tifosi che ricordano quelle che furono le promesse dell'associazione Manfredonia Miramare, che si disse convinta, per bocca del suo presidente Colicelli, della disputa Manfredonia del derby col Sansevero. Una delle tante promesse non mantenute, continuano ancora i tifosi della Est, che precisano tuttavia di non portare alcun rancore verso la società bianca azzurra e verso gli addetti ai lavori che stanno dimostrando sul campo il loro valore. Il tutto mentre sabato, in riva al golfo, si celebreranno i 90 anni di calcio di una città che vuole tornare a far sventolare i propri colori nella propria casa.